E' una situazione difficile quella in cui versa la Cooper Standard di Battipaglia, azienda che opera nel settore automobilistico specializzata nella realizzazione di articoli in gomma destinati all'assemblaggio e alla produzione di vetture negli stabilimenti Fiat. La possibile fusione con Sud Gomma, società facente parte dell'indotto, potrebbe provocare il licenziamento di circa 100 lavoratori interinali dell'azienda. Uno scenario che ha preoccupato non poco i sindacati che nella scorsa settimana hanno dichiarato lo sciopero fino a quando non vi saranno chiarimenti in merito alla fusione e alle prospettive future. Battipaglia, il commento di Gigi Vicinanza della Cisal, non può permettersi di perdere un'azienda fondamentale per il tessuto economico del territorio. Spero ci possa essere una presa di posizione di tutta la classe politica della città. Serve una mobilitazione per dare solidarietà a questi operai che portano in alto il nome di Battipaglia all'interno dell'industria automobilistica. Grazie.